Guarda, doppio Pokémon! Oh mio Dio, ma i miei fanno schifo, tu hai già quello che è fortissimo, non vale! No, aspetta! Oh mio Dio, oh mio Dio! No, 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 no! Non ho idea di che cosa si è polvo, è la verità! Ho capito, sì, 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 sì! Oh mio Dio, vai, 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 vai! E ragazzi, come va? Io sono Feriniki! E io sono Steph, e questo gioco è Maroblox! E siamo tornati su Pokémon Brick Bronze, ho una cosa importantissima da dirti, l'ho scoperta mentre tu non c'eri, te lo dico, è una cosa che ho fatto senza di te, io sono impazzita, peccato non poter vedere la mia reazione, perché è una cosa fantastica, allora vieni, 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 devi entrare qua, devi entrare qua, dovete sapere che Feriniki è quello che parla con tutte le persone che ci sono dentro Pokémon. E siccome lui non me lo vuole far fare nei video, io lo faccio fuori dai video, perché mi dice se lo perdi tempo e tutte queste cose proprio con questa voce usa, con questa voce. I quadri danno un indizio? Allora, devi parlare con questo signore, io non ti dico altro, tu parla con questo signore e riceverai una cosa fantastica, tanto tutti penso che l'avranno capito perché è una cosa, per cui ho detto che io sono impazzita, quindi guarda, parla per un bel po', parla per un bel po', un po' troppo. Sì, però vale la pena ascoltarlo perché ti ricompensa proprio con un bellissimo premio, ti dà un Eevee! Non devo dargli il soprannome, giusto? Se non vuoi no. No, ok, perché non ho letto gelassio, no, non capivo. E adesso guardi i tuoi Pokémon, guarda lì, guarda lì, guarda lì, guarda lì, Eevee! Oh mio Dio, perché è grigia, poverina? Perché ti racconta la storia che praticamente... È malato? Sei una persona terribile, ma come puoi dire che è malato? È grigia invece che è marrone. Allora, se tu avessi ascoltato il signore, lui ti avrebbe spiegato che praticamente loro prendono tutti i livi anche di diversi colori, proprio una cosa strana che fanno, non ho ben capito perché sinceramente non potevo l'ora di riceverlo e andarmelo. No, e quindi ce l'ha dato colorato. Ce l'ha dato rotto? Allora. Ascolta, mi è brutto. Sai cosa succede? Io la prossima volta parlo con gli abitanti della casa e non ti dico nulla. Oh, aspetta, però mi sono accorta di una cosa. Che non hai parlato con la vecchietta? Esatto, non ho parlato con la moglie, non l'avevo vista seduta qui, signora. Che maleducata. Devo fare un attimino una cosa. Depositare i miei Pokémon. Guarda quanto è bello. Se dobbiamo andare... Guardalo. Oh mio Dio, l'avevo vista. È fighissimo. Allora, tipo... Ah, ma li metto come voglio. Sì, sì, li strascini, li metti dove, come vuoi. Ma un sacco di box, è fantastico. Allora, io non voglio praticamente nessuno perché non me ne piace mezzo, quindi li butto tutti. Eevee penso di tenermelo. Ok. Mi piace, è carino. Io per ora ne sto tenendo quattro, eh. Sto tenendo Syndacchio Evoluto, Nidoran, Pikachu ed Eevee. Io aspetto di catturare qualcosa. Voglio qualcosa di elettro sicuro. Anche perché, allora... Sì. ...la prima palestra, ovviamente, guarda come illuminata, quindi avrà tutti i Pokémon elettro, giusto? Esatto. Comunque parlando anche con questo giovanotto, mi ha detto che praticamente la palestra, infatti, come si può notare, prende tutta l'energia ed è per questo che hanno tutti questi tralici per dare sempre più energia alla palestra. Cioè, guarda come... Consumano nella corrente di tutto il villaggio. Sì, esatto, esatto, sono... Per quello hanno un po' di problemi con l'energia. Torniamo indietro, giusto? Sì, 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 sì. Vieni. Vieni. Dove stai andando? Entro senza di te a vedere. Oh mio Dio. È una storia discoteca, davvero. Cioè, guarda. Quei flash, tutte quelle luci. Non hai capito. Guarda sotto. Lì vedi che c'è... Stanno ballando. È una discoteca per davvero. È una discoteca per davvero. Ah, mi sta interrompendo. Vai, Eevee. Ce la puoi fare. Dobbiamo dargli... Uh, bellino, l'ho ritrovata. Aia. Questo lo voglio come Pokémon Letro. Shinx penso di tenermelo. Spero sia forte, perché, ripeto, non conosco quelli delle nuove generazioni, quindi... Spero sia forte. Spero te sarà forte, Shinx. Catturalo, catturalo. Io lo sto prendendo. Livello 7, maschio. Spero che non esca da quella Poké Ball, perché altrimenti mi ammazza Eevee. Il mio è livello 6. È livello 6, quindi va bene, va bene. Ok, dovrei riuscire a prenderlo. Per fortuna non l'ho ancora fatto fuori, quindi... Allora, un nickname per Shinx. Shinx lo chiamiamo Jinx. Perché? Boh. Jinx ha anche un nome da femmina, perché? Non lo so. Sei una persona terribile. Tu sei terribile, scusami. E guarda che nomi li dai, ma poverini, poverini, dico io. Secondo me il prossimo selvatico mi ammazza Eevee, però vabbè, dai, ci provo. È già debole, ha 10 di vita. Allora, io adesso mi metto Shinx tra i primi, dato che il livello 6 è di certo non è male. Sì. E poi li sistemo. Non servirà molto per la palestra, perché ovviamente elettro contro elettro non sarà... Ah, tu non punti a far migliorare Eevee? Te ne frega nulla? Sì, che lo voglio far migliorare. Eh, ma allora lo devi mettere per catturare, perché fai expo quando catturi. Eh, ma io voglio anche Shinx. Non si sa decidere. Lasciamo Eevee, dai. Magari mi potrà essere utile in qualcosina per la palestra, non lo so. Ok, cattura anche Electrike. Electrike. Electrike, bellino. Sì, 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 sì. Con Eevee ce la dovrei fare. Così sono già a due presi. Ok, ce l'ho fatta. No, un altro Shinx, ma perché? Ti stanno andando a fissa male tutto, eh. Eh sì, ho notato. Allora, Electrike lo chiamo cane brutto. Come cane brutto? È bruttino. Penso anche di non poter scappare. Ah sì, ok, perché era di livello più altru divi, pensavo di non poter scappare, invece mi ha fatto scappare. Livello 6. Abbiamo curati Pokémon. Io ho già scelto tutta la mia squadra. Allora, mi sono messo loro 6. Non sono molto forti, anzi. Però mi devo arrangiare così. Allora, io sono un po' in difficoltà. Ho già una buona quantità di Pokémon. Sono soddisfattissimo. La cucinella poi è troppo, troppo, troppo carina. Ma la mia cucinella è tipo livello 3. Cioè, capito? Cosa me ne dovrei fare? Nulla. Magari ti porta fortuna, però. La metti come ultima, capito? Guarda, tanto allora, fanno tutti schifo di livello. Quindi la tengo così. E speriamo prima. Nella speranza che dia. Allora, mi sistema i Pokémon. Eh sì, perché io oltre Fennekin ce ne ho davvero bassissimi. Secondo te, comunque, prima di iniziare, non è meglio comprarci anche delle pozioni o qualcosa del genere? Costano troppo, non abbiamo soldi. Dici di andare così. O ce la facciamo o non ce la facciamo. Quindi è sperare per il meglio. Esatto. Ok, dai, proviamoci. Andiamo. Tanto se poi come i Pokémon veri puoi fare anche i primi allenatori, tornare a curarti e finirla, no? Esatto, certo, certo, certo. Io non credo che potremmo fare questa palestra facilmente. Ho davvero paura. Allora, questo lo butto giù facile facile. Il problema è che stiamo cercando di fare una palestra intera con un solo Pokémon, perché gli altri sono tutti troppo bassi. Ascolta, è colpa nostra. Non è colpa nostra. Non abbiamo Pokémon utili a distruggere quelli elettro. E quello è il problema. Quindi anche se te ne potenzi altri, capito? Siamo sempre lì, perché non hai troppe cose super efficaci. Quindi è un po' un problema, capito? C'è una cosa strana da fare. Che cosa? Questa cosa. Allora. Credo. Ok. Ascolta me. Allora, secondo me sai che cosa succede? Sanno che anche tu sei un ballerino. Loro sono dei ballerini, quindi vogliono mettere... È una gara di ballo. Alla prova le tue abilità da ballerino. Non possono vincere. Mamma mia quanto paga anche solo il primo allenatore. Mamma mia. 350. Allora, che dobbiamo fare? Secondo me è così, guardami. Io ci passo sopra. Io ci passo sopra tutti. Ho fatto lo stesso, sì, aperto. Perfetto. Vai. Guarda quelli sotto, mi stanno uccidendo. Guarda che belli come ballano. Guarda che belli. Intanto sono infogatissime. Che musica c'è? Guarda questo con la cresta rossa. Guardalo. Guarda che è l'ultimo questo. E poi c'è direttamente il capo palestra. Quindi penso che ce la possiamo fare. Dai, stiamo andando bene anche perché il nostro Pokémon principale è bello alto di livello. Quindi è una buonissima cosa, capito? Ok, questo ne ha due. Sei già il secondo? Sì. La pecorella di livello 10. Ma rip, che bellina. Schiatta in fretta, non farci perdere tempo. Shbam! Ok, dai. Per ora è facile. Comunque anche il fuoco fa abbastanza danno contro l'elettricità. Sì, ma è come se facessi take-all. Cioè, è un colpo normale, capito? Perché siamo troppo forti, in sostanza è quello. Brava. Siamo troppo forti. L'hai detto tu però, non l'ho detto io. Sì, 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 sì. Secondo me la cosa migliore è che andiamo a curarci prima di andare poi a fare l'ultimo. Sì, perché io sono paralizzato, ho il mio fan making paralizzato, capito? È l'unico problema. Questo ci dà i big money, secondo me. Comunque pagano tantissimo, guarda. Oh no. Ok, pensavo che dovessimo anche riaffrontare gli allenatori per un attimo. Ah no, perfetto. Ho avuto paura. No, no, no. Oddio, come l'avevo fatto questo coso? Aspetta. È perché ho sbagliato, praticamente. L'ho fatto troppo veloce, sono andata su un altro tasto e me l'ha distrutta. Allora. Ta, ta, ta. No. Ta, ta. Ta. Ta, ta. No, allora. Ta. 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 Non riesco a capire. Allora. Io le odio queste cose, mi divertono ma allo stesso tempo le odio. È facilissima alla fine. Sì, è così, devi chiudere, esatto, di così e poi puoi andare. In effetti non ho pensato che non dovevamo per forza arrivare alla fine. Allora, all'inizio ho provato, ho visto il rosso, il rosso, il rosso, ho detto, ma vuoi vedere che è di così e non devi per forza arrivare alla porta? Ma non è tutto che è proprio il DJ? Sì, è il DJ di questa discoteca fantastica, guarda tutti come ballano con la sua musica. E adesso inizia pure lui, cioè ragazzi. Yeah, 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 uhuh, uhuh. Basta. Bravo. Usiamo i Pokémon che è meglio. Che ogni danno tutti fermi. Si chiama Chad, il creatore di questa palestra bellissima. Dice che se lo battiamo ovviamente ci dà la sua medaglia, ma che non vuole rovinare la sua reputazione che quindi ci spaccherà la faccia. Assolutamente, guardalo, guardalo, con le cuffiette proprio prontissimo. DJ Chad, vedi. Il primo livello 12, quanti ne ha però? Non lo so, non l'ho visto. Due. Ok, ce la facciamo eh. Dici? Sì, 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 sì. Ce la facciamo. Allora Ember Subito Subito Dai 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 Dimmi che non mi ha paralizzato Ok L'ho anche bruciato Bravo Eh ti è andata la grande Sì certo che mi è andata la grande Ciao Uno Morto Su 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 Secondo grazie Dai la prima palestra Vedi come tutti i Pokémon È abbastanza semplice Ci siamo spaventati tanto Però alla fine sta andando bene Non ci credo A Pikachu Sì Oh mio Dio Lo voglio vedere Livello 13 Carino Che carino Sarò felice di battervi Prima andato Adesso toccherà pure a me Con Pikachu Oh mio Dio Che carino È facile L'ho pure bruciato Ormai è andata la prima medaglia L'abbiamo fatta Bellissimo Perfetto Perfetto Ho una schiatta a Pikachu Grazie Ciao Pikachu Guarda mi dispiace Sei carinissimo Però è una questione di orgoglio Anch'io non voglio perdere Non voglio dire che come allenatore Ho perso alla prima palestra Perché sarebbe un disonore Secondo me Quindi dobbiamo Ciao Pikachu Io voglio almeno 1000 da lui Ci deve pagare assolutamente bene Certo sì Siamo a corto 2000 Uh Anche fin Anche fin troppo Bello Pagano bene le palestre Pagano bene Guarda come si era messo Allora io sto avendo un po' di problemi Te lo dico Guarda un attimo il mio personaggio Come si era messo Anche il mio Perché Pikachu ha avuto Capito La decenza di Eh Ha fatto bene Ha fatto l'affronto Di paralizzarmi Capito Però è morto uguale Ok Bravissima 2000 Allora Congratulazioni per la tua vittoria È un piacere presentarti la tua prima medaglia Della palestra Grazie Bellino Aspetta 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 Allora fai passare quello che si sta evolvendo il mio Fennekin Guarda che bella la medaglia Bellissima Bellissima Vai la voglio nella realtà Bellino Bellissima Vai Sono pronto Vai Oh mio Dio Oh mio Dio Non ho idea di che cosa si evolvendo Neanche io Non ho capito Sì 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 Oh mio Dio Vai 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 Yeah Che carino È una volpe in piedi È una figata È carina Penso fosse la terza evoluzione quella io Anch'io Ah ok Bene Allora si chiama Braixen adesso Bra Braixen Braixen Ok Comunque è carinissimo Hai visto È molto carino Mi piace Mi piace Mi piace Mi piace Mi piace Uh bella La medaglia Hai visto che poi è la stessa che lui ha sopra la console da DJ È fantastico Ci dai anche qualche mossa Sì TM TM57 57 Ok Charge beam Nah Vedi non è la mossa che ci serve per Giusto? Esatto Sì Infatti è per i Pokémon È un attacco speciale per i Pokémon di tipo elettro Giustamente lo immaginavo Aspetta Aspetta Ti permetti di usare HM01 Ovvero taglio Taglio Fuori dalle battaglie Ok quindi adesso se troviamo taglio lo possiamo utilizzare In più possiamo comandare i Pokémon fino a livello 20 Perfetto 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 È andato bene È andato bene Sono molto soddisfatta Siamo riusciti a farla Posso notare una cosa? Cosa? Guarda in alto a destra Adesso è la medaglietta a fianco al nome Oh mio Dio è fantastico E abbiamo anche i Pokémon Vedi che stiamo catturando Che ovviamente stanno aumentando Eh beh certo Io ne ho 12 Tu ne hai qui 15 Perché mi devi battere in tutto? Perché? Perché mi devi fare questa cosa? Aspetta Ok dice che vuole andare a sfidare la paella Adesso E che spera Che sui Pokémon siamo più forti del nostro Ci ha dato la RTD Sarebbe? Recreational Teleportation Device E a che serve? Ci andiamo? Sì Come si usa? A sinistra RTD Vedi? E poi scendi Trade Resort O Battle Colosseum Cosa vuoi fare? Andiamo a vedere il Resort Prima Sì Dai Ok dobbiamo prima salvare Sì salva Grazie Grazie Sì salviamo Salviamo Ricordiamoci di salvare Perfetto Ci sei? Aspetta sono grigia Pazienza Oh mio Dio No vabbè No 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 La vedi la balena? No 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 Non mi potete fare queste cose Posso andare nella barca C'è anche Pig Come si chiama il gabbianino? Non mi ricordo Però belline Oh mio Dio Oh mio Dio È fantastico Guarda quanti player ci sono Oltretutto Certo Vieni Vieni che guardiamo il Resort Salve Salve allenatori Vedi è pieno di allenatori Ciao Questo che cos'è? Trading Vedi? Questo ragazzo praticamente ci permette di scambiare i pokemon Giusto? Se tu metti il cursore Una richiesta Ok Di che cosa? Trade request No non voglio fare richiesta Io sto accettando Cosa succede? Non lo so Allora mi sta proponendo di scambiare un pokemon Allora aspetta che sto facendo un attimo uno scambio A Charizard Guarda io ti do lui E tu mi dai Charizard Va bene? Sì Ok Accetti Accetti questo scambio bellissimo Se mi legge Udud Sono felice No? No È morto Io allora sto guardando il tuo fallimento Perché non ti darà niente Quei tuoi pokemon Lo sai benissimo Facciamo così Ok Ti do lui E mi sento gentile oggi È morto È indeciso È proprio in preda all'indecisione Ti sto dando qualcosa Sì Ma voglio anch'io Sì Guarda guarda C'è una fortuna incredibile Allora come faccio a non andare al colosseo Ok ci voglio provare anch'io Allora accettiamo da questo qua Vediamo che cosa Ok ciao Non me ne frega più nulla Sì 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 esci Di che livello è il pokemon che mi ha dato? Fammi vedere un attimino No Dici che mi ha fregato Undici Eh beh sì Ok che succede? Allora guarda Posso sfidarti scegliendo i livelli Oh mio dio Bellissimo Bellissimo Ma non ha senso Vai su request Ma non ha senso sfidarci Abbiamo avuto due pokemon Di fuoco Infatti ho fatto una cosa carina Cosa hai fatto? Vai tu pronta Ok Guardaci Che devo fare? Che devo fare? Devi selezionare i tuoi pokemon Quindi questo E fanno tutti schifo Non è che ho molta scelta Li metto tutti Anche perché così Magari la cucinella mi porta fortuna Ok Ok cosa sarà questa battaglia Scusami Guarda Dovrei averla impostata nel modo giusto Oh mio dio Siamo fantastici Guarda Doppio pokemon Oh mio dio Ma i miei fanno schifo Tu hai già quello che è fortissimo Non vale No aspetta Leggi il livello Così siamo alla pari Esatto Oh mio dio È fantastico Allora bella Cavolo Non l'avrei dovuto mettere Usiamo Su questo Su di lui E poi facciamo così E poi Facciamo Cosa Su questo Farà schifo Così Su di lui Ma ivy perché me lo sono messa come secondo? Avrei dovuto lasciarlo tra gli ultimi Oddio non faccio danno Non faccio danno Insomma eh Non faccio minimamente danno Ok All'ivy l'ho fatto un critico Ma certo perché ivy fa schifo Ma è la fortuna Pari il critico O meno Da Devi riuscire a paralizzarmi il tuo Se ci riesce È fatta Perché siccome fa schifo ivy Almeno cerco di sfruttarlo Per farne Fuori almeno uno Che ti devo dire È stata un'ottima idea Fanno schifo Fanno schifo Allora Paralizzalo No l'hai schivato No è fantastica sta cosa che ci possiamo sfidare Io ti giuro che è davvero epica È bello Guarda Vedo anche i miei pokemon lì È bellissimo Che carino il mio fennekine Evoluto che ormai si chiama Bryson Mettiamo Pikachu Vai Pikachu Vai Che bella sta cosa È troppo bella Guarda che poi Non appena livelliamo con i pokemon Riusciamo a fare squadre migliori Ci possiamo fare intere sfide Con questa cosa Possiamo fare anche le sfide a tema Epiche Pokemon d'acqua contro pokemon di roccia Tutte cose così Esatto Ovviamente senza fare cose che si battono a vicenda Possiamo fare tutte sfide in questo genere Bellissimo Possiamo fare appunto tutte cose tematiche No guarda sto impazzendo perché mi vengono Mi hai spaccato Pikachu Mi vengono in mente un sacco di idee Sono felicissima Sì sto un po' vincendo scusami Me ne hai già ucciso E vabbè Cose che succedono Cose che succedono Mi dispiace Mi dispiace È Marif Forfè Sì Basta C'è dei addirittura forfè Vabbè grazie ho vinto Terrendo Yeah Cioè mi scrive l'user in testa Più uno Più uno BP Remember to save Cosa vuol dire? Non ho idea Probabilmente esiste la classifica Andiamo a cercarla Ah ok Magari una classifica generale Di tutti gli allenatori Davvero bellissimo In ogni caso per questo video ragazzi Ci fermiamo così È stato davvero bellissimo Vedere tutte queste cose Ovviamente nel prossimo episodio Andiamo avanti Di sicuro Per fare caccia grossa Di Pokémon E di sicuro Trovare anche taglio Come mossa Che ci farà comodo Per trovare Un sacco di robe carine Spero che ci vedete così Se vi piace Lasciateci un bel like E se è la prima volta Che vedete un nostro video Potete considerare l'idea Di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao E alla prossima Ciao 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 Grazie.